E che veramente lavoro ogni giorno per poter portare davanti a tutti quanti voi una figura, un personaggio che probabilmente è uno di quei pochi personaggi d'Italia puliti, che non ha assolutamente nessun tipo di problema con la legge come qualcuno potrebbe elencare tanti e tanti di quei nomi, come fa Peppe Grillo nelle piazze italiane, come fanno tanti altri e che sono poi quelli che si meritano il nostro rispetto da parte di tutti quanti noi e che poi sono quelli che passano anche i problemi peggiori. Ieri sono stato con alcuni amici, con Mario Capata, con Andrea con Andrea Ranera che vi salutano tutti, che in effetti sono delle persone impegnatissime ogni giorno e per noi è veramente una grande soddisfazione stare qui, non voglio dilungare i miei discorsi Lascio la donna a Mazzuzma, a Mazzuzma Ok, suono glosone Ok, suono glosone Ok, suono glosone Grazie a tutti 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 Grazie a tutti